In occasione di un incontro culturale a San Donato Milanese, Dino Caca e Lella Strie hanno conosciuto Mariuccia Brambilla, la quale ha voluto inviare il suo saluto a padre Luigi Paggi, sfruttando la connessione satellitare di Munda TV. Un saluto a padre Luigi. Un saluto a padre Luigi. Un caro saluto a padre Luigi. Da Dino Caca. Padre Paggi, con questi dinosauri che circolano in giro, è schesissimo eh. È diventato un ambientale. Grazie.